ciao a tutti benvenuti o bentornati qui sul mio canale youtube per chi non mi conoscesse io sono valentina in arte valley makeup lover e qui sul mio canale parliamo di beauty makeup e skin care a 360 gradi nel video di oggi parleremo di promossi e bocciati ho terminato un po di prodotti sia di makeup che di skin care quindi sono pronta qui a dirvi che cosa ne penso prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come valley makeup lover anche su instagram e tik tok quindi se vi fa piacere venite a seguirmi anche lì e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi lasciate un like di supporto ma soprattutto commentate perché mi aiutereste tantissimo con l'algoritmo di youtube ma come sempre ho parlato abbastanza iniziamo subito con il video innanzitutto tantissimi auguroni di buon natale spero che abbiate passato una felice vigilia e che anche questa giornata stia andando al meglio quindi vi auguro veramente tantissimi auguroni e vi abbraccio forte forte partiamo come sempre dalla skin care ho terminato tre prodotti di skin care e tre prodotti di makeup ovviamente vi seleziono sempre sei o sette prodotti in questi video di modo che possa spiegarvi al meglio che cosa ne penso quali sono le loro caratteristiche il primo prodotto che ho terminato e l'ho letteralmente bevuto perché l'ho utilizzato mattina e sera nella mia skin care è il latte detergente claire di joel skin care questo latte detergente mi è stato gentilmente omaggiato e vi posso dire che per la mia pelle secca ha fatto un lavoro egregio e un latte che secondo me per pelle secca si adatta benissimo perché ha una consistenza quasi burrosa e una volta emozionato sul viso toglie i residui di makeup vi pulisce a fondo alla pelle senza aggredirla e una volta sciacquato il tutto rimane morbida al tatto e non ho nessuna sensazione di pelle che tira quindi per me è stra promosso ovviamente io vi parlo per esperienza di pelle secca ma secondo me può andare bene anche a pelli normali e pelli miste pelli grasse non so se consigliarvelo non perché è un gem ma perché è proprio una texture burrosa quasi da burro struccante e non so nell'effettivo su pelle grassa come potrebbe performare però per quanto mi riguarda è super promosso perché in questo mese e mezzo di utilizzo non ho riscontrato nessun problema se non una pelle molto più idratata e meno aggredita il prossimo prodotto è un tonico e come sapete è uno step per me fondamentale so che tanti di voi nella skin care routine non lo utilizzano perché non lo ritengono opportuno però a me dà proprio quella sensazione di pelle idratata e più coccolata e il tonico che ho terminato in questo periodo è l'acqua distillata alle rose tonico rinfrescante di roberts questo qui la confezione a 300 ml l'ho usato assiduamente mattina e sera e non ho trovato nessun tipo di problematica mi ha aiutato a sentire la pelle tra virgolette più idratata mi aiuta utilizzare il tonico anche quando per esempio utilizzo l'acido ialuronico che ha bisogno di una superficie umida per penetrare al meglio e vi posso dire che l'ho trovato gradevole sulla pelle ha una leggera profumazione di rosa non non è nauseante è molto molto sopportabile però ovviamente se non vi piacciono i profumi magari non fa il caso vostro e avevo sentito alcuni pareri discordanti su questo tonico in cui veniva detto che irritava la pelle o comunque seccava la pelle perché magari presente per esempio il profumo però per quanto mi riguarda avendo anche la pelle sensibile e secca non ho riscontrato nessuno di questi problemi quindi per quanto mi riguarda mi è piaciuto quindi magari lo potrò anche ricomprare anche perché ha un costo abbastanza basso il prossimo prodotto è un contorno occhi ed è una mini size ed è il 24 ore replenish eye moisturize contorno occhi di espa questo è il pack ho utilizzato questo contorno occhi più o meno per un mesetto perché se non erro la quantità mi è durata un mese un mese e mezzo e vi posso dire che mi è piaciuto tanto innanzitutto ve lo consiglio perché è un contorno occhi molto molto idratante e ha una consistenza pastosa diciamo così però allo stesso tempo quando lo picchiettate nel contorno occhi viene assorbito velocemente vi consiglio di picchiettarlo e non strisciarlo perché altrimenti lascia per qualche secondo una patina bianca però poi ho notato che il contorno occhi innanzitutto era più idratato e anche sotto il make up mi faceva durare e per formare meglio il correttore quindi secondo me è un buon prodotto mi rendo conto che forse ha un costo leggermente elevato però per quello che mi riguarda è un buonissimo contorno occhi i prossimi tre prodotti fanno parte del make up e due di questi sono due mascara che finalmente ho finito e l'altro invece un correttore partiamo dal primo mascara ed è il black to black mascara di puro bio non so se ve lo ricordate l'abbiamo visto anche in un video dedicato è un mascara che mi piace tanto ha uno scovolino un po cicciotto e come vedete abbastanza allungato scusate la mano ma non metteva fuoco da un effetto nero alle ciglia le districa le allunga e secondo me ha un effetto di ciglia finta e molto naturali quindi se siete amanti del mascara di questo tipo ve lo consiglio non fa grumi non si secca durante la giornata e quindi non vi lascia residuo sugli zigomi diciamo così ho notato che si strucca facilmente è abbastanza delicato sugli occhi quindi non ho trovato nessun tipo di problematica e secondo me è un buon mascara quindi per chi ama l'effetto delle ciglia nere districate ma pur sempre abbastanza naturali il prossimo mascara praticamente ve ne ho parlato sempre vi ho detto che è uno dei miei preferiti e ho provato anche la nuova versione e sto parlando dello sky high mascara di maybelline questa è la versione classica e non è la versione waterproof questo è lo scovolino del mascara come vedete è abbastanza affirato diciamo così e cicciotto nella parte iniziale è un mascara che davvero a me piace tantissimo secondo me è un rapporto qualità prezzo notevole innanzitutto vi allunga le ciglia ve le districa veramente bene vi fa le ciglia super super nere e vi dà un leggerissimo volume all'attaccatura non immaginatevi che sia un mascara volumizzante perché io non lo definisco così però vi posso dire che ho riniziato ad apprezzare mascara grazie appunto a questo qui perché mi vedevo sempre le ciglia molto corte sempre tutte magari aggrumate da alcuni mascara che stavo utilizzando e quando ho scoperto questo è stata la salvezza lo scovolino è molto flessibile come vi dico sempre sembra un vermicello e vi permette di arrivare su tutte le ciglia anche su quelle all'inizio dell'occhio vi permette di metterlo anche nelle ciglia inferiori cosa non da poco perché gli scovolini molto grandi per esempio sul mio occhio fanno sì che molto spesso io mi sporchi e invece vi posso dire che con questo mascara io non ho trovato problemi ho anche la versione cosmic black però sono sincera io non trovo differenza e ovviamente se vi posso consigliare a questo punto un mascara allungante che fa le ciglia nere che non ve le appiccica facilmente struccabile e soprattutto che vi dona effettivamente un bel effetto di occhio da cerbiata secondo me questo mascara dovete averlo ultimo prodotto ma non per importanza è lo stay natural plus concealer di essence questo qui come sapete io ho un amore fortissimo per questo correttore oltretutto ne ho comprato anche un'altra confezione per farvi vedere che non mento è un correttore che secondo me merita tantissimo soprattutto se come me avete innanzitutto il contorno occhi secco e state cercando un correttore elastico con una comprensa medio bassa perché non è ultra coprente però che vi lascia il contorno occhi luminoso e dall'aspetto riposato è un correttore che costa veramente una fesseria se non erro forse 2 euro e 50 una cosa del genere l'unico appunto che devo fare che forse speravo ci fosse più prodotto ma tenete presente che io l'utilizzo tantissimo e quindi mi basta neanche un mese e li termino e vi posso dire che mi ha stupita in positivo l'ho preso così giusto per provarlo nello stand non ero molto convinta sulla performance perché spesso questi correttori con il pennellino ho fatto in questo modo vedete l'applicatore come proprio a pennellino non mi aggradano tanto perché ne ho provato di diversi brand e non riuscivo a farmi di piacere invece per quanto riguarda questo innanzitutto la colorazione 20 gentle beige è quella che mi praticamente matcha benissimo è quella che indosso anche oggi non va nelle pieghette è idratante elastico riuscite a settarlo con poca cipria ripeto vi rende il contorno occhi molto riposato vedete quanto è luminoso comunque lo utilizzo anche per illuminare le altre parti del viso e anche con i miei fondotinta bb cream preferiti funziona bene non si sposta durante la giornata non mi appesantisce il viso e mi dà proprio un aspetto molto molto luminoso e di pelle levigata diciamo così quindi per il costo che ha io sinceramente ve lo straconsiglio ci sono varie colorazioni ovviamente io vi parlo per quella che è la mia esperienza e per quella che è la mia colorazione mi ci trovo benissimo quindi se siete simili a me come shade del viso e se siete simili a me anche come contorno occhi questo correttore ve lo straconsiglio bene anche questa carrellata di prodotti vuol già il termine fatemi sapere nei commenti se avete già provato qualcuno di questi prodotti e se vi è piaciuto o meno io sono felice perché alla fin fine tutti questi prodotti che vi ho mostrato fanno parte dei miei promossi come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like iscrivervi al canale mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita dei nuovi video anche per oggi è tutto io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video ciao raga